Buongiorno ad FT Online, pochi spunti in borsa questa mattina, abbiamo infatti il Fuzzimib sostanzialmente sulla parità. Sono ormai tre giorni che i prezzi oscillano all'interno dell'intervallo che era stato proposto nella giornata di lunedì, non sono riusciti ancora a cancellare del tutto il segnale negativo inviato venerdì scorso con la discesa di sotto i 25.500 punti per quello che riguarda il nostro Fuzzimib. Siamo in un'ottica temporale più ampia comunque ancora all'interno del canale crescente che si può disegnare dai minimi dello scorso gennaio. I prezzi sono anche al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni, questa curva verde che è stata toccata con i minimi di venerdì e che passa intorno ai 24.990 punti. Direi che fino a che siamo di sotto di 25.500 non si può escludere il rischio di una variazione di area 24.925.000, se questo dovesse accadere ci sarebbe la prospettiva di una discesa di almeno altri 1000 punti, se invece dovessimo salire al di sopra di 25.500 potrebbe aprirsi la strada al test non solo del massimo di giugno ma anche del lato alto del canale che vedete intorno ai 26.700-800 punti. Il mercato resta concentrato sul discorso dell'inflazione in particolare di quella statunitense, quasi ogni giorno escono commenti di membri della Fed che cercano di rassicurare gli investitori sul fatto che l'inflazione sia in una situazione di controllo, mettono però in molti le mani avanti dicendo che non si tratterà di un fenomeno temporaneo, quello della risalita dei prezzi ma che potrebbe accompagnarci per un po' di tempo, quindi i mercati restano sul chi vive perché temono ovviamente un'impennata dei tassi di interesse. Per il momento questo non si è ancora verificato, anche sul fronte del mercato obbligazionario non ci sono novità particolarmente significative e quindi i rendimenti sono sostanzialmente stabili, però il timore per quello che riguarda gli investitori resta. Questo è il grafico del DAX, vediamo che sostanzialmente è simile a quello del nostro Fuzzimiba, anche qui c'è stato un tentativo di rimbalzo lunedì dopo la brusca discesa di venerdì che aveva portato i prezzi al di sotto di questa linea di tendenza, quella che parte dai minimi di fine ottobre per intercettare quelli di febbraio, fino a che rimarremo al di sotto di questa trendline c'è il rischio di un'evoluzione negativa anche di un certo spessore nel quadro grafico, infatti si può riconoscere questa figura a forma di cono che potrebbe essere, come abbiamo detto più volte, una onda ending diagonal della sequenza impulsiva iniziata con i minimi di marzo dello scorso anno, quindi ending diagonal vorrebbe dire che questa è l'onda terminale di tutta quella sequenza impulsiva, dopodiché ci si potrebbe aspettare una correzione ampia di tutto il precedente rialzo. Non è altrettanto pericolante la borsa americana, questo è il grafico del Nasdaq 100, ha fatto registrare ieri un nuovo massimo storico al di sopra di quello del giorno precedente, anche se poi la chiusura sostanzialmente è stata neutrale, la cosa importante è comunque che i prezzi si mantengono oltre alla linea di tendenza che parte dal massimo di febbraio per intercettare e poi quello di aprile e una linea di tendenza che si è dimostrato una resistenza forte, ora è stata superata e potrebbe diventare un supporto altrettanto forte, quindi fino a che rimarremo al di sopra di questa trendline, le attese sono di un proseguimento del rialzo e per quello che riguarda il Dow Jones Industrial, vedete sono tre giorni che sta lottando col 50% di retracement del ribasso dal massimo di inizio giugno, il fatto che dopo aver testato questa importante resistenza che è intorno ai 34.000 punti poco sotto, le quotazioni abbiano continuato a navigare in quell'area è se vogliamo un segnale di forza perché non si è avviata una vera e propria fase di ritracciamento, di correzione, ma è continuato il pressing contro la resistenza, certo fino a che non saremo in maniera salda di sopra di 34.000 c'è ancora il rischio che il rimbalzo visto dai minimi di lunedì sia solo una correzione temporanea, del resto sappiamo bene che fino a che il ritracciamento si limita al 50-61,8% va inteso come movimento correttivo, ma se dovesse venire superata area 34.150 ci sarebbe un bel segnale di forza per il test del lato alto di questo canale che vedete disegnato dal massimo di maggio, se il lato alto del canale venisse superato si tratterebbe di identificarlo come un flag, quindi una figura di continuazione della precedente tendenza rialzista e il potenziale di crescita sarebbe notevole perché anche se solo proiettiamo l'ampiezza del flag ci accorgiamo che abbiamo uno spazio notevole di circa 1750 punti, quindi da 34.500 dobbiamo aggiungere 1750 punti per ottenere le potenziali target al completamento del flag. Oggi ci occupiamo di alcuni titoli del mercato italiano particolarmente interessanti, per quello che riguarda la versione di libero accesso del video guarderemo Nexi e Unipol, per gli utenti Patreon invece andremo ad approfondire il quadro grafico di Campari, di Azorin, Pirelli C e Italian Exhibition Group che sono tutti i titoli che hanno avuto delle motivazioni significative per il movimento che stanno compiendo, Pirelli ha subito il taglio del giudizio da parte di Goldman Sachs che lo ha portato a sella e questo giustifica il tonfo di questa mattina, Di Azorin e Campari invece possono godere di un miglioramento del giudizio da parte di Midobanca e di Citigroup e per quello che riguarda l'Italia Exhibition Group abbiamo un sostegno da parte del governo al settore fieristico che per adesso è limitato a 100 milioni di Euro ma che potrebbe essere decisamente anche più significativo, quindi tutti i titoli da tenere sotto controllo ma iniziamo la nostra analisi con Nexi che è in prossimità di una resistenza importante il massimo del 5 di ottobre dello scorso anno a 18,20€, siamo questa mattina di sopra 18€ quindi veramente vicini a questa resistenza, se quel massimo che poi è il record di tutto lo storico del titolo dovesse saltare ci sarebbe una buona prospettiva di crescita, i prezzi potrebbero andare ad intercettare il lato alto di questo canale che si posiziona intorno ai 18,90€, 19€, quindi sopra 18,20€ segnale di forza sicuramente interessante. Per quello che riguarda Unipoli invece siamo con un tentativo di rimbalzo dopo una prolungata fase discendente che ha provocato anche qualche danno perché se andiamo a vedere c'è stata sia la violazione di questa linea di tendenza ma anche della media mobile esponenziale a 50 giorni e temo che sia stata violata anche la 100 giorni, andiamo a vedere, infatti anche la 100 giorni era praticamente coincidente con la linea di tendenza, questa linea di tendenza è la base del canale che i prezzi hanno seguito dai minimi di ottobre, la violazione della base di un canale molto spesso comporta movimenti in direzione della rottura di ampiezza almeno uguale a quella del canale stesso, quindi c'è il rischio che il titolo torni è a 3,45 e 3,50, nel breve però potremmo avere un return move tra 4,50 e 4,60, quindi innanzitutto per chi avesse il titolo in portafoglio suggerisco di sfruttare eventuali movimenti in quell'area per neutralizzare le posizioni, se poi dovesse stabilizzarsi di sopra di 4,65 rientrando all'interno del canale potrebbe aprirsi una finestra di rimbalzo più ampia per salire almeno fino a 4,95 e 4,96 che è il gap del 24 di maggio, attenzione però che l'ultimo segnale significativo inviato dai prezzi è la violazione di questa importante linea di tendenza, quindi i rimbalzi in questo momento sono più per alleggerire le posizioni che per crearne di nuove al rialzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata dandovi appuntamento a domani. Grazie